Ecco adesso abbiamo qua la signora Cristina che abbiamo appena visto lo spettacolo delle acque e le randagere che sentimenti hai provato guardando questo spettacolo? Ah bellissimo perché intanto tutti quelli che suonavano e parlavano li conoscevo quindi è stato tornare indietro nel tempo e poi le acque e le randagere rappresentano un pezzo di storia che bisogna conoscere quindi non posso che essere contenta di averlo visto qua, fatto da voi, da loro quindi non sono altro che contenta di essere qua Quali canzoni o quali momenti ci sono più di più di questo spettacolo? A me piacciono molto le storie, le foto vecchie quindi nel vedere quelle foto antiche ho scoperto un pezzo di storia che non conoscevo quindi solo dei nomi invece adesso ho visto anche delle facce per cui direi che è proprio bello anche questo Lei conosceva alcuno dei suonatori? Sì conosco tanti dei suonatori perché appartengono al gruppo Scout di Saronno di cui ho fatto parte per tanti anni qualcuno era capo con me per cui insomma anche questo un po' di malinconia ma tanta gioia insomma nel vedere questa cosa per cui va bene va bene Io la ringrazio e le auguro una buona serata, grazie mille E poi anche a te buona strada Grazie mille